Il romanzo di questa sera è un romanzo gotico, così si definisce, lo definisce anche l'autrice Simona De Santis, giornalista. Questo romanzo è ambientato a Roma, la tua città, ma ha una proiezione che arriva fino in Normandia, come ci fa capire il titolo, l'ultima erede del castello di Harcourt. Sì, il romanzo mi piacerebbe definirlo gotico perché ci sono tutti gli elementi del filone gotico, quindi c'è il castello in rovina, il castello di Harcourt che è il punto di fuga poi della storia in questa contea dell'Alta Normandia, ma c'è anche la scenografia della Roma millenaria, la Roma papalina e la storia ruota intorno ad una donna, una psichiatra, Matilde Milani, complessa personalità divisa tra un'altra un DNA cartesiano, razionale con il desiderio di controllo della sua vita e dall'altra parte invece una sensibilità molto accesa e un'energia così prorompente che è capace di fiaccare il respiro e uccidere. Lei ha già ucciso. E questo è l'aspetto noir, diciamo. L'aspetto dark, sì, l'aspetto gotico. E Matilde quindi ha dei poteri, dei veri e propri poteri magici che poi affondano le loro radici nel passato. Sì, ha degli attacchi di panico che vengono proprio descritti clinicamente, in realtà rappresentano un po' il dono della profezia. Lei indaga, cerca di darsi delle risposte sulle sue radici e troverà una storia di matriarcato, di discendenza femminile fino alle rovine del castello di Harcourt che è un castello realmente esistente dell'anno 1000 che si trova nel nord della Francia. L'ultima erede del castello di Harcourt di Simona De Santis, il romanzo pubblicato da Gremese.